www.feyyaz.com faccio fuori aspetta il tessico vuole sto uscito grazie stasera iniziamo a fare una bella botta è un pazzo era curioso i soldi sono l'ultimo problema i soldi si fanno se non lo vabbiamo che passa un chiamabio, un maschino ma vorrà tante chiamata la rantenta e il continuo è un disordine al shigmaniccio no ma va no ma no ma no ma no ma no ma no no Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti